Da Radio Speranza trasmettiamo Geriatria in Onda a cura del professor Carlo D'Angelo. Cari amici, ci sentiamo ancora una volta per parlare di geriatria, di anziani, di medicine. Oggi vorrei parlarvi di un argomento, non di una patologia, molto importante. Vorrei parlarvi delle medicine in genere, diciamo dell'uso e dell'abuso in cui facciamo dei farmaci. La prima cosa che dovremmo tenere presente è questo nome, farmaco, è di origine greca, farmakon, e significa veleno. Perbacco, allora tutte le medicine sono velenose? No, questo termine viene usato proprio per indicare che c'è un rischio nei medicinali che non sono delle caramelle, delle compresse da prendere così, ma che vanno valutate opportunamente. Molti non li vogliono neanche prendere, oppure interrompono le medicine perché per la pressione, per il diabete, per gli uretici, e sono da anni che le prendo, sono stufo. Allora per questi diciamo subito, lo racconta Collodi, che Pinocchio non voleva prendere le medicine perché erano amare. Quando però vide due conigli che arrivavano con una bara, che arrivavano da lui, subito chiese alla Fatina di prenderle, quindi le medicine sono necessarie. Però oggi, in questo mondo moderno, l'uso delle medicine è diventato un abuso. Troppe medicine prendiamo, troppe in modo non corretto, troppe inutilmente. Sembra ormai, per come siamo abituati a non voler soffrire, che per qualunque patologia minima bisogna prendere una medicina. Mal di testa, la compressa, se fa male una spalla, un ginocchio, un'altra compressa, e così via. La gente oggi si è abituata a reagire a problemi anche minimi della propria salute in termini di compresse, pastic, medicina, quello che volete. Questo fatto è aggravato un po' dalla distribuzione gratuita. Molti di noi hanno a casa degli armadietti pieni di medicinali che fanno concorrenza ad una farmacia. Per carità non è che voglia dire aboliamo la distribuzione dei farmaci. Alcuni costano moltissimo e specie pensionati o indigenti non sarebbero neanche in grado di comprasse. Ma limitiamo l'uso dei farmaci. Anche perché la popolazione anziana della nostra Italia sta notevolmente aumentando. Quindi aumentano le patologie da trattare. I fondi a disposizione al servizio sanitario sono sempre di meno, sono fissi. Quindi usiamo bene le medicine. Diciamo alcune cose a difesa di chi le usa. Forse gli anziani non sarebbero così avidi di medicina. Molte volte sono i parenti, i conoscenti che danno dei consigli, che lo portano dal medico. E anche il medico, quando visita un paziente, alla fine si sente in colpa se non fa nulla, se non gli scrive una ricetta. Si dà solo delle spiegazioni. Io credo che molte volte sia sufficiente parlare con i pazienti, spiegare quello che c'è, rendersi conto se occorre un medicinale o meno. Però per fare prima o per fare in fretta o per dare soddisfazione, qualsiasi visita si conclude con una ricetta. Ecco l'abuso che ci può essere delle medicine nei pazienti della terza età, della quarta età. Chi vi parla, vi ricordo Carlo D'Angelo, un medico geriatra da quando aveva 24 anni, da quando aveva un ragazzo, ne ha viste tante di queste cose. Una cosa per esempio, un primo errore, sono le prescrizioni multiple. Cioè si va dal medico per un problema, ci si dimentica di dire quali altri farmaci si stanno prendendo, magari il medico ha fretta o non li ricorda, o è un sostituto, e si possono creare dei danni. Facciamo l'esempio di un paziente che usi degli anticoagulanti e che abbia dei problemi reumatici, tutti i farmaci antinfiammatori, i farmaci antireumatici aumentano la coagulazione, quel paziente può andare incontro a demorragia. È sufficiente parlare con il medico, far presente i farmaci che si usano e il collega vi darà un farmaco compatibile con quella patologia, con quella cura che state facendo. Un'altra cosa che vorrei dirvi, molto spesso capita che non sia il medico a prescrivere le medicine, ma che sia la vicina di casa, che sia la comare, che sia la figlia, ho preso questo farmaco per la pressione, come sto bene, questo per il reumatismo. I farmaci non si danno per autoprescrizione, non si fa il porta a porta, bisogna che sia sempre un medico dietro che vi possa suggerire la dose, la quantità, la durata. Anche perché prendendo più farmaci insieme, per un tempo maggiore a quello prescritto, si possono avere degli effetti collaterali. In puntate precedenti, vi ho detto che noi in Italia siamo poco abituati ai controlli, alle statistiche, alle percentuali. Nei paesi anglosassoni, parlo della Gran Bretagna, parlo degli Stati Uniti, si va molto invece sulla ricerca e sulla possibilità di fare statistica. Forse pochissimi di voi sanno che su 100 persone che si regolano in pronto soccorso, il 10%, 10% di queste persone ci vanno soltanto perché hanno preso dei farmaci in più, o in modo sbagliato, o hanno avuto degli effetti collaterali. Questo è molto importante, perché più medicine si prendono, non insieme nello stesso momento, ma nel corso della giornata, maggiore è il numero degli effetti collaterali che noi possiamo avere. Quali sono gli effetti collaterali? Quelli che sono legati alla sovrapposizione di più farmaci insieme o che sono dovuti alla stessa sostanza presa per un periodo maggiore. È vero che ci sono pazienti che hanno allergie o intolleranze, però bisogna fare in modo, ripeto, che sia il medico a prescrivere che la terapia sia fatta per un certo periodo, non sempre. Alcune vanno fatte sempre, le cure per la pressione, per il diabete, altre vanno fatte limitatamente, altre vanno fatte per il periodo che il medico prescrive. Vi faccio un esempio, molti farmaci usati per le micosi, cioè per le malattie da funghi, devono essere usati per tutto il periodo dei 15-21 giorni, tre settimane che il medico prescrive, perché può capitare che dopo 5-6 giorni la micosi scompaia, però le ife fungine, cioè quelle che sono le progenitrici dei funghi, compaiono ancora se vuoi interometrare la terapia, a tenersi sempre al medico. Parliamo un po' anche del medico, non dando la colpa sempre ai pazienti. Il medico ha una regola d'oro che dovrebbe essere applicata, che è quella di dare il numero minore di farmaci alla dose minima per il tempo più breve possibile, quando basta per guarire la patologia, quindi non parliamo delle malattie croniche. Molte volte si peschivano tante cose, per esempio, dottore mi sento debole, mi dà delle vitamine, forza vitamina A, B1, B6, B12, PP, C, tutto quello che volete. Io molte volte dico, ok, facciamo una cosa, queste vitamine sono nell'insalata, nei pomodori, nell'olio di oliva, nella carne, mangiamo in modo normale e vedrete che staremo molto meglio per evitare quelle che sono cure inutili. a meno che giustamente non vi sia una avitaminosi dimostrata. Quindi dare dei farmaci quando sono estrettamente necessari, dare dei farmaci che il paziente possa prendere e cercare anche di parlare e di spiegare. Ora, senza scendere a degli aneddoti o balzellette che tutti conosciamo, si racconta che un tale, cui il medico ha prescritto delle supposte, andò dal medico e diceva, guardi, questa cura non lo posso fare. Prima cosa, queste medicine sono troppo grandi, ho difficoltà di ingoiarle. In secondo luogo, sono disgustose, non riesco a prenderle. Soltanto perché, considerando che molte persone, oggi non succede più, questa è una vecchia balzelletta dei medici, se non si danno spiegazioni, i pazienti non sono in grado di usare la cura corretta. Vi faccio un altro esempio. Noi oggi disponiamo di molti spray che vengono usati per i pazienti con bronchite cronica o struttiva per evitare le ricadute, per evitare attacchi asmatici, per evitare infiammazioni sui bronchi. Cosa succede? Il medico prescrive queste bombolette, diciamo, da spruzzare per via orale dalla bocca, però se il paziente non viene istruito a ispirare profondamente il medico espulso, facciamo la cura, non so, delle malattie dei lenti che rimane tutto in bocca. Quindi parlare con il paziente, del medico, parlare degli effetti collaterali, delle medicine che sta apprendendo, del paziente stesso che molte volte aggiunge medicinali di sua prescrizione o indicazione. e poi spiegare sempre, questo sempre da parte del medico, per quanto tempo prendere il farmaco, per quanto tempo protrarre il trattamento di cura. Vi facevo l'esempio della micosi, ma anche quello più banale di un paziente con una bronchite catarrale che ha espettorazione quasi composta di una broncopolmonite. Se il medico ti dice questa cura la fai per sei giorni e il secondo giorno la febbre scompare o scompare l'espettorato, non bisogna interrompere, perché quei microbi che sono appena stati colpiti dall'antibiotico, nei giorni successivi si moltiplicano e si moltiplicano in modo esponenziale 2, 4, 8, 16, 32, 64, per fatevi i conti voi, e questi microbi prendono il sopravvento e rinnovano di nuovo la patologia, la broncopolmonite o la polmonite. Quindi fare, seguire le istruzioni. Una cosa che invece mi piace dire, anche se la medicina ufficiale la ritiene decisiva e importante, quando noi prendiamo una medicinale, troviamo all'interno una lunga lista di effetti collaterali, può causare 1, 2, 3, 4, ecco, molti chiamano bugiardino, il giorno dopo ardino, dottore, ma do questo, fa male, mi sento tutti questi effetti qua, in alcuni paesi, in diversi paesi all'estero, questo non viene usato, io do questo farmaco al paziente XY per la terapia Z, una compressa al giorno per 10 giorni, molte volte leggere questi bugiardini porta in errore, porta a non prendere i farmaci, a ridurre le dosi, se io ti prescrivo 2 compressi al giorno di questo farmaco per la circolazione, è perché ne devi prendere 2, eh ma dottore, 2 sono troppe, ne prendo 1, questo non può essere fatto. Attenzione poi a quelli che sono i farmaci sedativi, già altre volte abbiamo detto prendere molte di quelle sostanze benzodiazepine, quelle che servono per l'ansia, per il dormire, può portare a gravi problemi, può portare a debolezza, a cadute, abbiamo fatto una trasmissione in cui parlavamo tanto delle cadute e di quelli che sono gli effetti collaterali, gli effetti gravi delle cadute, la frattura del femore, il trauma cranico, i traumi in generale. Attenzione infine ai farmaci per il diabete, molte volte si assumono i farmaci per il diabete, l'insulina o le compresse per bocca, senza fare ogni tanto dei controlli sulla glicemia, ormai ciascuno, ciascun diabetico ha in casa un apparecchietto per la glicemia, quindi ogni tanto è bene controllare, vedere, se troviamo valori che sono costantemente bassi, bisognerà ridurre la dose. Attenzione ai diuretici, attenzione, non solo ai diuretici, ma qualcosa di nuovo degli ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale, anche per motivi di risparmio, porta molto in voga, preferisce i farmaci generici, non è che questi non siano buoni, sono ugualmente buoni, però portano il nome generico, c'è ad esempio un diuretico che si chiama furosemide, che molti di voi conoscono, ma lo stesso diuretico ha anche un nome proprio, capita allora che il paziente torna dal medico con la scatoletta del farmaco diuretico con il nome proprio, e poi gli finiscono a casa le compresse di furosemide, che è la stessa sostanza, e torna a prendere la furosemide, per motivare il medico a prescrivere, quel paziente fa una doppia cura, fino a disidratarsi, a cadere, ad abbassare la pressione, perciò torno a dire, abbiate un medico di fiducia, che sappia essere consultato, e parlarvi, con il quale poter parlare, dite sempre le medicine che state prendendo, e cerchiamo di avere una buona salute tutti, per prendere il meno possibile, però quando occorrono, bisogna prenderle. Diciamo infine un altro, non è una barzelletta, è un modo di prendersi in giro, fra medici, pazienti e farmacisti, fiducia nel medico, non fate come quello che andando dal medico, si è visto prescrivere le medicine, ha visto che erano tante, e ha detto, io adesso questo è il farmacista, me la faccio spedire, il farmacista ha prescritto queste medicine, dargli un sacchetto come si usa oggi, e il paziente è tornato a casa, ha detto, guarda, al medico fa bene, perché viene pagato e dà le medicine, al farmacista fanno anche bene, perché ci guadagna vendendo le medicine, forse devo star bene anche io, queste medicine sono troppe, prese il paziente, e butto le medicine nel sacchetto delle mondizie, ok, è un'estremità proprio raggiunta di battuta, i farmaci, ritorniamo a dire, sono necessari, bisogna usarli, non bisogna abusarne, perché altrimenti causiamo un nuovo danno, arrivederci a tutti. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso, Geriatria in onda, a cura del professor Carlo D'Angelo. Grazie a tutti.